L'illusione più crudele è quella che simula il reale in ogni sua fottuta ombra. Ahmed Malis Cresciuto nei palazzi popolari ragazzo milanese di origine egiziana prodigio della matita questa non è la storia che cerco è la storia che mi cerca. Sì, sono un falsari, ogni artista lo è. Perché devo comprare una rosa se te la posso disegnare? Perché devo mercanteggiare plastica se posso immaginare oro? Allora, e li hai portati? Il compratore estrae il cash dallo zaino Ahmed tira fuori la merce due ritratti a matita iperrealistici Bro, c'è chi scrive con la china e c'è chi scrive con il sangue hai una responsabilità verso chi ti ascolti la mia anima è incastrata dentro fogli di carta la mia anima è incastrata dentro fogli di carta Grazie per la visione Grazie.